Andrea Rossi possiamo dirlo un 2021 che non dimenticherai tanto facilmente ci sono state tutte le difficoltà legate al covid e alle relative restrizioni ma c'è stata una convocazione in nazionale europea che ti sei guadagnato con tre belle medaglie un argento individuale due bronzi nelle stafette allora torniamo in spagna e raccontiamo un po come andato questo europeo ma allora l'europeo è andato benissimo perché a parte l'esperienza spettacolare con il gruppo e ovviamente della prima convocazione anche le gare sono andate molto bene e soprattutto nella nella gara dove sono arrivato secondo che era la gara che la gara regina del salvamento in mare e quindi sono molto felice anche perché appunto ho fatto gruppo con subito con la con gli altri miei compagni e a parte appunto infatti la parte sportiva la parte delle emozioni è stata incredibile non me la scorderò facilmente diciamo hai ricevuto qualche buon consiglio prima delle gare sicuramente dai miei allenatori dai miei amici più diciamo vecchi che hanno più esperienza di me sicuramente ma anche dai miei amici più stretti più vicini della mia età che mi hanno che mi hanno supportato tutto l'anno tutta l'estate e anche proprio a in nel campo gara e anche dagli allenatori della nazionale che mi hanno sempre riservato da ottimi consigli non dimentichiamo anche due compagne di società più grandi carlotta e martina che hanno vestito i colori azzurri in altre manifestazioni portando a casa degli ottimi risultati c'è una tradizione felice nel salvamento la sportiva store sì sicuramente sono infatti molto felice di continuare questa tradizione che ormai speriamo continui anche negli anni prossimi e appunto peccato che non siano riuscite a essere insieme a me in spagna perché anche loro erano state convocate al collegiale per appunto la selezione una prima selezione però purtroppo non sono state scelte sono molto dispiaciuto speriamo l'anno prossimo di avere un gruppo dello sturla in azzurro più ampio quanto si allena un life saver per arrivare a questi livelli è il problema del nostro sport è che è molto vario quindi dobbiamo fare molti allenamenti su molti fronti quindi dalla piscina la canoa dobbiamo poi anche andare in mare con le tavole correre e fare ovviamente palestra quindi una settimana almeno una decina di allenamenti a settimana quindi con giorni anche due o tre allenamenti a volte capita quindi è molto molto dura però quando piace fare qualcosa non si sente la fatica